quando sei finalmente felice di uscire ma non ti ricordavi che mancavano i braccietti dello spi da sistemare che manca un petto che ci sono gli stopper da sistemare che il silicone deve ancora tirare che il 3d del fioc insomma un'altra volta eh ragazzi siamo a bordo vi faccio vedere chi c'è con me la chi c'è nessuno, qui un pozzetto con me, nessuno, andiamo a vedere se c'è la coperta qui c'è quindi son Tom, qua non c'è nessuno, qui non c'è nessuno, qua non c'è nessuno sono da sola a bordo, sola con il mio pilottino super bigio B&G lo sopra ha nominato bigio ragazzi allora questa mattina sembrava che un attimo ci volesse un po' prima di uscire invece c'è la fetta però c'è sempre un però ho dimenticato di mettere il log quindi non riesco a vedere la velocità della barca adesso vediamo se riesco a farlo in andatura se è andato a fondo se no farei proprio l'inaugurazione e basta no scherzo adesso vedo un po' un cambio log è andato bene anzi c'è una goccia 6 lati di vento e 5 nodi di velocità questo è il vento e questa è la mia velocità e siccome è la prima volta che sono in barca da sola prima sono andata un attimo a prua diciamo che è bene la sicurezza quindi adesso indosso il mio giubbottino e soprattutto la cintura per non cascare fuori anche perché in giro non c'è un anima viva che mi viene a riprendere e invece guarda lì una barchina allacciamo le cinture di sicurezza siamo pronti per mettere il turbo no oggi lo spi non lo metto perché ho i braccetti che ancora sono da sistemare non c'è più vento là c'era quella strisciolina blu là ma io devo tornare in porta e qui il vento non c'è ma la barca va avanti lo stesso eh allora adesso la questione del momento è come fermeggiarmi da sola vediamo dopo cosa succede intanto la barca va avanti anche se non c'è il vento cioè guardate sono in porto non lo so neanche io come ho fatto c'era il vento contro nel canale un disastro il canale d'ingresso e a un certo punto la barca ha deciso di andare all'indietro perché di vento non ne voleva sapere dopodiché un'anima pia ho preso il remo dopodiché un'anima pia dalla banchina mi hanno preso le cime e mi hanno dato uno strappo fino più avanti dove sono riuscita a riprendere il vento diciamo così per avere una spintarella e arrivare fino all'ormeggio e come mi sono fermata qui l'ormeggio un'anima piazza 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 per oggi è finita per sostenermi in questa avventura trovi qui sopra o qui sotto il link del crowfunding e ci vediamo al prossimo video hanno appena dato gli avvisi di burrasca no vabbè però sono poco sopra Rimini e non ci vediamo al prossimo video iscriviti al canale